Buongiorno, buongiorno a tutti. Vi abbraccio con tutto l'amore che ho nel cuore e vi faccio una promessa quest'oggi. All'inizio di questo santo triduo offrirò tutte le mie preghiere, offrirò tutte le mie piccole sofferenze per voi. Voglio chiedere a Gesù di avere uno sguardo speciale per tutti voi. Voglio chiedere al Signore che vi benedica, che entri nelle vostre case, che visiti la vostra vita e che vi doni tanta pace, tanta serenità, tanta consolazione, tanta speranza, tanto amore. Vi do un comandamento nuovo, sentiremo oggi nel canto al Vangelo. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Amatevi anche voi gli uni gli altri. Questa famiglia nostra è bella perché l'amore è alla base di ogni cosa. Non ci giudichiamo, non ci condanniamo, ma sappiamo di avere bisogno della misericordia di Gesù e di sentirci amati. Carissimi, mi auguro che in questi giorni possiate andare in chiesa, accostarvi al sacramento della confessione, pregare per chi non potrà uscire per la malattia. Alle 18.30 saremo qui, attraverso il canale YouTube, a vivere tutti i riti del Giovedì Santo. Voglio benedirvi e benedirvi con tutto il mio cuore. Se potesse arrivare il battito del mio cuore, quando penso a voi e alla gioia che voi mi date, sentireste un rumore forte, un battito forte. E se vi dico che vi voglio bene, credeteci. Chinate il capo, perché invoco su tutti voi la santa benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona giornata a tutti e che il Signore vi consoli sempre. Vi voglio bene.